Sulla scelta di non fare confronti televisivi, anche Triskitta qui ha fatto le sue affermazioni, lei cosa risponde? Allora, a me non interessa quello che dice Triskitta, io ho già detto e dichiarato che fino a quando non presentavo le liste per dibattiti non ero disponibile perché io devo lavorare all'interesse dei cittadini e sto studiando, vi posso garantire tantissimo, sto imparando tantissimo e sto cercando anche per ogni problema e vi assicuro che sono tanti una soluzione. Adesso appena finirò questa fase preliminare di strategia, di impiego delle risorse e di ricerca delle risorse io scenderò in campo ufficialmente dal 16 in poi e non ho paura di nessun confronto. E quindi lei verrà anche da noi in televisione a fare il suo confronto con gli altri candidati? Perché sia una televisione che consenta il libero dibattito e che non sia un urlatorio o una macchina del fanno.